Buonasera, iniziamo a dialogare di crisi dello Stato liberale e di avvento del fascismo in Italia. Una di queste cose, mentre la sinistra è molto forte, mentre è molto forte il PSI e mentre è molto forte il movimento dei lavoratori, è anche la presenza di Mussolini in Italia. Mussolini veniva dalla sinistra, veniva dal Partito Socialista e partecipa al dibattito che si sta sviluppando in questo periodo, dopo la Grande Guerra, 1918-1919, con un passato comunque da protagonista o comunque con un passato importante, soprattutto dentro le figlie della sinistra. Lui era nel Partito Socialista italiano, era stato nel 912 direttore dell'Avanti, che era un incarico estremamente importante per l'epoca, all'epoca i giornali erano una via fondamentale di comunicazione. Nel 914 si era dichiarato, a favore dell'intervento in guerra, in contrasto col partito, va detto che c'è stato tutto un interventismo democratico fatto di gente di sinistra, di persone di intellettuali di sinistra, penso a Salvemini, a Parri, che si erano dichiarati a favore della guerra. Lui si era dichiarato a favore della guerra con una sua visione, per cui una volta dato le armi al popolo, il popolo avrebbe fatto la rivoluzione, adesso so quanto questa fosse veramente fondata, adesso non intendiamo così, su questo tipo di analisi, tuttavia con questo tipo di posizione era stato esposto dal partito, perché il Partito Socialista italiano, uno dei pochi in Europa, forse uno dei pochi in Europa, il Partito Socialista italiano era neutralista, quindi voleva, uno dei pochi, forse l'unico in Europa, essere neutralista. A proposito del fallimento poi si dirà della seconda internazionale, perché gran parte dei partiti socialisti europei invece si dichiaravano favorevoli alla guerra per sostenere lo sforzo dei governi nazionali, penso ai francesi, penso ai tedeschi. Sarà espulso dal Partito Socialista e fonderà il popolo d'Italia, un giornale che in primo momento sembrava un giornale socialista, un giornale di sinistra, in primo momento aveva anche il sottotitolo quotidiano socialista, poi questo sottotitolo sparirà così, un giornale che sembrava rappresentare un modo diverso di intendere una certa visione anche sociale del paese e della visione della società. Nel 19, tuttavia, dopo finita la guerra, un po' scavalcando il malcontento della cosiddetta vittoria mutilata, si presenterà come un po' il paladino dei reduci e dello scontento, della delusione di una parte del paese verso l'andamento della guerra e fonderà poi i fasci di combattimento italiani, i fasci italiani di combattimento. Un movimento un po' ambiguo forse per certi versi, nasce a Milano nel 1919, quello si dice nel covo lì, c'era Milano, il Sansepolcro, i cosiddetti fasci di combattimento. Certo riferimento ai soldati, a chi ha combattuto, alla grande guerra, al mito della grande guerra, tutto quello che la grande guerra ha voluto dire. Il tema, il programma si fonda un po' sull'idea della lotta tra stati poveri, pensiamo a Versailles contro stati ricchi, a Versailles cioè i stati ricchi hanno voluto tutto, i stati poveri naturalmente no, cioè la lotta è tra stati poveri e tra stati ricchi, come ne ha detto, cioè i stati poveri non hanno voluto quello che al contrario hanno voluto gli stati ricchi. I punti di questo programma sono punti complessi per così dire, forse anche contraddittori tra di loro, nel senso che si inizia, si impaventa l'idea di una repubblica, l'ipotesi di creare una repubblica, poi si parla di elementi anticlericali, del Cavour, anche Cavour stesso aveva fatto la legge sui conventi, chiudendo una parte dei conventi nel 1855, cioè questo tema c'era anche un certo pensiero liberale, anche un certo pensiero socialista, anche qui si parla di un sequestro di beni della Chiesa, insomma ci sono temi sicuramente anticlericali, poi ci sono certi temi antidemocratici e nazionalisti, la forza del paese e la democrazia che indebolisce il paese, si parla di un paese che deve difesa degli interessi nazionali, di un paese forte, e poi ci sono temi un po' particolari, come quello della partecipazione dei lavoratori alla direzione dell'industria, che si lega a una sorta di sindacalismo rivoluzionario che veniva un po' dalla base, da una certa storia con cui Mussolini ne ha tratto in contatto, l'idea cioè che gli operai e i lavoratori dovessero organizzarsi dal basso, perché i partiti fanno perdere tempo e non fanno i veri interessi dei lavoratori, e tramite un'azione anche violenta, anche un'azione aggressiva, ottenere dal padronato quello che è giusto, cioè una gestione del lavoro, una partecipazione alla gestione dell'industria, dal basso. L'articolo diceva così, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al funzionamento tecnico dell'industria, l'affidamento alle stesse organizzazioni proletarie della gestione di industria e servizi pubblici, insomma una partecipazione dei lavoratori alla gestione delle attività economiche. Poi si parlava di costituente, a proposito del superamento della monarchia e della costruzione di una repubblica e di un abbandono allora dello statuto albertino, un'imposta progressiva, cioè chi guadagnava di più doveva pagare, pagare di più, sequestro dei profitti di guerra, che aveva fatto i soldi con la guerra, era giusto che contribuisce alla spesa del paese, e il sequestro dei beni delle congregazioni religiose, questo l'abbiamo detto prima. Insomma un programma con elementi diversificati, elementi anche sociali, pure addirittura ha parlato anche elementi di sinistra, che come comunque ci sono, un po' un gazzavuglio, però ci sono anche elementi di destra, di una destra tradizionale, l'aspetto nazionalista, il tema antidemocratico, poi certamente c'è tutto il tema della guerra, del mito della grande guerra. Insomma con un programma di questo tipo qua Mussolini ha iniziato ad operare dal 1919 in poi, subito dopo il programma del marzo, del marzo del 1919, è avvenuto un episodio che poi sarà importante per Mussolini, a cui in qualche modo Mussolini farà riferimento, ma credo sarà importante un po' per tutto il fascismo. Cioè Danunzio, con un suo modo di fare autonomo, ecco così, è difficilmente governabile, decise di risolvere lui la questione di Fiume, che le trattative di pace non era stata data all'Italia, tramite settembre del 1919, quella che è stata definita l'impresa di Fiume. Che penso possa essere l'impresa di Fiume vista un po' come una grande prova, una prova di fascismo. Gabriele Danunzio è forse inconsapevolmente, non lo so, è un po' il gran maestro del fascismo, almeno di un certo tipo di atteggiamenti che molti gerarchi e una certa parte del fascismo poi prenderanno prestito. Innanzitutto cos'è l'impresa di Fiume? Scatenare una specie di rivolta interna all'esercito, in subordinazione interna all'esercito, perché sono reparti dell'esercito che poi agiscono e che vanno verso Fiume. Considerando che appunto era stato ordinato di non andare, era stato ordinato dal governo di non andare. E qui è l'esercito che dovrebbe essere il primo che esegue gli ordini, perché è l'esercito insomma, ed è l'esercito del primo invece che va, nonostante che era stato ordinato non andare. E mentre poi Danunzio marcia verso Fiume, alcuni reparti che dovevano fermare questa marcia si uniscono alla stessa marcia di Danunzio. Insomma, una rivolta interna all'esercito, è molto grave, perché poi è appunto interna all'esercito. E quando si è giunti lì, si dimostra che cosa? Che con la forza, usando la forza, si possono raggiungere tutti gli obiettivi. Ecco, se prepariamo la marcia su Roma con la forza, si possono raggiungere tutti gli obiettivi. E lì viene votata quella che è chiamata la Carta del Carnaro, cioè una Costituzione, un modello sindacale. Abbiamo visto questo tema sindacale, c'è anche nel programma dei Fasci, quello che crista da un sindacalista socialista, che poi è ex socialista, il De Ambris, i famosi fratelli De Ambris, Alceste De Ambris, che anticipa quella che sarà la terza via. Può essere un tema tipico del fascismo, o di un cosiddetto fascismo di sinistra. Cioè, il fascismo supera da questo punto di vista le grandi contrapposizioni che ci sono da una parte del comunismo, della sinistra, che presenta la lotta di classe, e dall'altra del capitalismo, che si fonda sull'egoismo, cercando un'altra strada, appunto la famosa terza via, su cui torneremo. E certamente qui vi sono quelle questioni connesse al sindacalismo rivoluzionario e poi saranno la costruzione di un sistema corporativo che è tipico di, così sarà tipico di una certa visione economica e sociale del fascismo, connessa a questa idea della terza via. Appunto abbiamo detto il fascismo di sinistra, il cosiddetto fascismo di sinistra dei fratelli De Ambris e di un'unione tra temi sociali o socialisti e temi nazionali, nazionalisti. Cosa dice l'articolo 2 della Carta del Carnaro, che un po' spiega questo tipo di visione? Dice, la Repubblica del Carnaro è una democrazia diretta, appunto diretta, in mente l'esperienza giacobina, che ha per base il lavoro produttivo, è una democrazia diretta che ha per base il lavoro produttivo e come criterio organico le più larghe autonomie funzionali e locali. Essa conferma perciò la sovranità collettiva di tutti i cittadini, ma riconosce maggiore diritti ai produttori, se è cittadini, se si è lavoro, se si è lavoratori e se si è produttori. La questione di Fiume è stata una questione delicata perché, abbiamo detto, rappresenta un'insurrezione dentro l'esercito, una sorta di ammottinamento, ed è grave, appunto, abbiamo detto, perché all'interno dell'esercito sarà poi risolta da Giolitti, forse anche esaurirà la sua spinta nel 1920, poi Giolitti farà mandare via i cosiddetti legionari, cioè quelli quali hanno seguito d'annunzio a Fiume e poi dopo con il trattato di Rapallo tra Italia e Jugoslavia si risolverà la questione di Fiume, ci si impegnerà a rispettare l'indipendenza dello Stato libero di Fiume, che poi dopo poi Fiume poi entrerà a far parte dell'Italia in un riconoscimento reciproco, però delle altre frontiere, di ciò che no, delle altre cose che erano state, come dire, stabilite, sono state di pace. Nel novembre del 19, vediamo qua l'evolversi degli avvenimenti, nel novembre del 19 avvengono le elezioni, le elezioni che rappresentano comunque il terremoto politico, rappresentano un grande cambiamento, sono intanto le prime elezioni in Italia che avvengono con una legge elettorale e queste elezioni segnano la fine di una storia, è la storia dell'egemonia del liberalismo in Italia, cioè il liberalismo, le forze liberali che avevano fatto il risorgimento, le avevano fatto l'Italia, le forze che venivano da Cavour, venivano dalla storia del risorgimento italiano, i liberali avevano venivato l'Italia fino ad allora, fino all'entrata in guerra del paese, nel 1915, e quindi è la fine di un lungo percorso della storia del paese, i liberali non erano un partito, erano un movimento, sì però un movimento che era stato un movimento genuone, e poi segna un altro avvenimento veramente nuovo e particolare, cioè l'affermazione del Partito Socialista, del Partito Socialista e del Partito Popolare, due partiti relativamente recenti, recentissimo il Partito Popolare, anche il Partito Socialista, che in fondo non avevano nulla a che fare, per così dire, con la storia del risorgimento, cioè non erano legati a un passato che aveva fatto, che aveva costruito l'Italia, nel bene e nel male naturalmente, e anzi il Partito Socialista poi era anche stato contrario a un certo tipo di storia, e anche credeva relativamente all'importanza delle istituzioni liberali, e anche il Partito Popolare, che era di matrice cattolica, avendo superato da poco il non espedit di Pio IX e il distacco della Chiesa Cattolica dalla politica italiana, dopo che l'Italia aveva ammesso il Stato della Chiesa, anche il Partito Popolare aveva un rapporto complesso e problematico con una parte della storia d'Italia. Insomma, veramente un terremoto politico per quello che rappresentava, per quello che aveva prodotto, e tuttavia segna un terremoto politico anche perché la maggioranza che emerse, la maggioranza relativa, era quella dei cosiddetti liberali, del movimento liberale, che era una maggioranza che non era in grado di governare da sola. I liberali costituzionali uscirono da queste edizioni con 179 deputati, prima ne avevano 310 ex giolittiani, dalla sinistra di Giolitti e dalla destra di Salandra, ripeto, sinistra di Giolitti e dalla destra di Salandra, però non in grado di governare da soli, non avevano più una maggioranza assoluta. Fortissimo invece è uscito il Partito Socialista con 156 deputati, prima ne aveva 52 e con il 32%, 32,4% della rappresentanza, insomma è il primo partito d'Italia, un partito importantissimo e con una maggioranza di questo tipo, un partito con una grande forza dentro il Parlamento, ma anche il Partito Popolare con 100 deputati, prima ne aveva 30, con un 20% di voti, 20,6%, anche questo è un partito molto forte, che aveva conquistato una forza che prima naturalmente non aveva, un partito che era stato fondato da Luigi Sturzo, un sacerdote, dopo che la Chiesa aveva deciso che era venuto il momento di partecipare, di intervenire in politica, che la Chiesa non poteva rimanere fuori, era finito il non espedite, abbiamo detto, il non espedite, cioè il fatto che la Chiesa i cattolici non partecipavano alla vita politica italiana e anche il fatto che si ispirava ad una nuova visione della Chiesa, nasceva dalla Rerum Novarum di Leone XIII nel 1891 che parlava di un impegno politico, sociale e della Chiesa. Si erano presentati anche i fascisti con quel programma che abbiamo visto prima, con il programma dei fasci del marzo del 1919 e anche i fascisti e si erano presentati a Milano con l'idea, il programma era stato scritto a Milano, il cosiddetto covo di Sansepolcro dove un po' era nato il fascismo, il fascismo è nato a Milano, dove pensavano di essere forti, si erano presentati a Milano dove pensavano di essere forti, Mussolini poi era stato direttore dell'Avanti, aveva agito a Milano, aveva operato a Milano anche prima quando era socialista, insomma si presentano a Milano forse anche con l'idea di far vedere la loro forza e i fascisti prendono solo 4657 voti, pochissimi voti, il fascismo sembra finito, sembra un'esperienza finita lì, si è così, sembra che si è esaurita, una spinta che si sia esaurita, qualcuno disse si è visto su un cadavere in alto stato di decomposizione, lo stato di Benito, il cadavere di Benito Mussolini, insomma il fascismo non è riuscito ad attecchire, è giunto ad una sconfitta, una sconfitta elettorale che sembra dovrà lasciare un suo segno. Mussolini si giustifica rispetto a questo risultato così negativo, dice la nostra, non è una vittoria, però dice non è neanche una sconfitta, è un'affermazione, siamo una minoranza con la quale bisogna fare i conti, la battaglia continua, ecco poi bisogna vedere appunto come e quanto, probabilmente poi c'è stata anche una sottovalutazione, l'idea cioè che il fascismo fosse finito lì e che non avrebbe avuto un certo tipo di sviluppo, d'altra parte è un periodo ancora a sinistra ancora molto forte, molto forte. Certo il problema è ora è formare il governo, qui si creeranno una serie di governi, il governo Giolitti nella prima fase, 2021, poi c'era un governo Bonomi dal 21 al 22, poi il governo Facca che proprio nel 22 gestirà la questione della marcia su Roma, i grandi problemi, e certo il problema è che i liberali non hanno la maggioranza e quindi devono governare con qualcuno, i socialisti non collaborano, non collaborano con i popolari e con i liberali, c'è un vuoto di potere e per governare i liberali dovranno un po' appoggiarsi ai popolari, due forze comunque che tra di loro non hanno molto d'accordo, perché abbiamo detto che il sorgimento è stato fatto dai liberali anche a danno della Chiesa Cattolica, quando lo Stato della Chiesa era stato inserito, no, scordiamoci la breccia di Portapia, inserito a forza, qualcuno dice a forza, dentro lo Stato italiano. Insomma un governo instabile con elementi poco solidi e pochi fondati anche dentro il paese. Sarà Giolitti l'unico a gestire un po', a riuscire a essere a capo un po' della situazione e forse Giolitti era l'unico politico che Mussolini veramente temeva. Nel giugno del 20 Giolitti poi tornerà al governo, supererà gli scioperi, supererà il problema di fiume, certo le contraddizioni, i problemi in Italia, queste situazioni di grandi disordine erano molto profondi e molto difficili forse da risolvere e questo sarà un elemento di forza del fascismo, ne sarà capace di inserirsi sulle grandi contraddizioni, le grandi problematiche di questo periodo. Gli errori dei socialisti da una parte, è la difficoltà di liberare e di governare il paese dall'altra. Mi fermo qua, vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto ai prossimi incontri dedicati al fascismo e all'avvento del potere del fascismo. A presto, alla prossima.